Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come configurare al meglio il microfono su Steam ovviamente se vai su Steam, impostazioni, vai su voce qui sul dispositivo di input vocale mettete il vostro microfono ovviamente io metterò il microfono che sto usando adesso su questo video quindi metto questo qua faccio anche avvia il test del microfono come potete vedere io sto parlando e la barra si sta alzando dispositivo di output vocale quindi mettiamo il nostro output vocale che sarebbero le cuffie o le casse quello che stai usando quindi io metto altoparlanti questi qua volume guadagno in ingresso questo è il volume per il microfono per esempio se lo metto diciamo su 5% facciamo caso che questo è il 5% non si sente proprio niente, la gente non ti sente quando parli però se lo metti sopra la metà non so verso un 70-75 ti possono sentire molto bene e su il volume guadagno in uscita le persone come le senti per esempio puoi anche abbassarle per non sentirle proprio oppure alzarle poi qua abbiamo il tipo di trasmissione vocale microfono sembra attivo push to talk push to mute quindi in questo caso vi consiglio il push to talk e assegnare così un tasto e metto la X ok? e su soglia di trasmissione vocale metto medium consigliata questo era quindi se questo video ti è stato utilissimo su come configurare al meglio il microfono su Steam iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao